Gio d'Ambrosio, che bel nome è italo-americano. Sì, è italiano in effetti. Lei era un soldato e poi il suo paese l'ha tradita, ma lei ha resistito come un soldato. Ed ora che un uomo libero continua ad essere un soldato, solo che combatte per la giustizia? Ma è stato il mio paese che mi ha tradito, ma è lo Stato. È vero, è vero, però alle volte Stato e Paese sembrano coincidere. Sì, secondo le leggi è effettivamente così. Che giovane soldato era e perché nell'esercito americano? Quando sono cresciuto io in campagna, c'erano molti lavori possibili da fare. Quindi lavorare in un'area di servizio, in un bar, erano cose che non mi piacevano. Allora ho pensato che era meglio entrare nell'esercito. Come mai l'hanno condannata per un omicidio che lei non ha mai commesso? In effetti sono stati due omicidi di cui io sono stato accusato, mi hanno detto che io ero lì, mi hanno visto mentre lo facevo e loro hanno preso degli accordi per cui in effetti sono rimasto incastrato. Allora, visto che la condanna non è stata una condanna normale, ma una condanna a morte, da cui lei è riuscito a scampare facendo giustizia, le chiedo di raccontarmi la sua storia. Chi è e com'è successo che Joe D'Ambrosio è diventato un assassino? Quando ero militare ero un meccanico, lavoravo sui veicoli, sui camion militari ed ero certificato come meccanico, ero qualificato, quindi sono riuscito anche a guadagnare più soldi all'inizio. E quando sono uscito però ho capito che non ero veramente qualificato, non mi avevano dato il certificato, quindi volevo tornare nell'esercito. Perché voleva fare il soldato? A parte per il lavoro. C'era anche una passione per il suo paese che voleva servire? Sì, era proprio così. Io ero un patriota. Questo sistema di giustizia a un certo punto l'ha presa in un ingranaggio da cui era impossibile uscire. Mi racconti com'è avvenuto che Joe D'Ambrosio è stato accusato di omicidio? Cos'è successo? È stato proprio una persona di questa società di giardinaggio che mi ha accusato e anche un'altra persona che mi ha accusato e hanno detto che loro sapevano che era quello che aveva commesso questo omicidio. Omicidio di chi, scusi? Oh, I'm sorry, Anthony Klan. Sì, Anthony Klan era un ragazzo di 19 anni, dell'area di Cleveland, dove io abitavo. E lei lo conosceva? No, soltanto per quel brevissimo tempo in cui ho lavorato in questa società di giardinaggio. E perché avrebbe dovuto ucciderlo? No, assolutamente nessuno ha parlato di qualche ragione per cui io avrei dovuto uccidere o per cui hanno detto che l'avrei ucciso. Nessuno ha parlato di questo. E ci dovrebbe essere un movente se l'hanno accusata. Loro hanno detto che siccome il proprietario di questa società di giardinaggio mi aveva detto di farlo, anche se io ero un sergente militare e io ricevo ordine e io ho detto che conoscevo soltanto questo uomo da pochissimo tempo, ma mi avevano detto di ucciderlo e secondo loro io avevo eseguito questo ordine. Un killer. Ma non aveva senso. Praticamente un killer. Ma questo ragazzo è stato ucciso per questioni di droga. Lei, Joe, aveva a che fare col mondo della droga? Questa era parte della storia della polizia, il fatto che c'era della droga coinvolta in questo, ma in effetti non c'era nessuna droga coinvolta. E lei era un tossicodipendente, Joe? No. No, assolutamente io non ho mai avuto problemi con la legge. Prima di quel momento non avevo mai assunto droga. Quando è stato condannato alla pena di morte, che è legge dell'Ohio da quando? La pena di morta è venuta fuori nel 69. Prima di quello, la Corte Suprema degli Stati Uniti l'aveva soppressa, ma poi nel 69 è stata ripristinata. Lei è uno dei tanti che sono morti e che continuano a morire, anche se noi non lo sappiamo. È stato condannato in che anno? Sono stato arrestato nel 98 e il mio processo è durato solo tre giorni. Tre giorni? Sì, solo tre giorni è durato. Perché io non avevo nessuna conoscenza della legge e non sapevo niente del sistema giudiziario e quindi in un baleno sono stato condannato e mandato nel braccio della morte. Questo è successo nel 98 e sono rimasto lì fino al 2009. Scusi, ma non avevo un avvocato per la difesa? Sì, mi hanno dato un difensore d'ufficio, ma era inutile, non ha fatto niente. Non mi ha fatto niente per aiutarmi. Lui pensava che io fossi colpevole, quindi non ha fatto niente per me. Ma le persone che l'accusavano erano molto potenti? Erano amiche dei magistrati? Per quale motivo l'hanno incastrata così? Tre persone sono state arrestate per questo crimine, questo proprietario della società di giardinaggio, l'ex proprietario e io, questi tre. Quando siamo stati arrestati, tutti e tre siamo stati accusati e è stata chiesta la pena di morte. Poi questo padrone, quando è stato arrestato, ha detto alla polizia che lui ha visto me e l'altro proprietario che uccidevano quest'uomo. Quindi a quel punto il caso era chiuso, secondo loro. Cioè lui ha patteggiato mentendo e quindi... Immagino quanto odio può aver provato verso quest'uomo. Sì, sì. Però ho cercato di superare questa cosa nel corso degli anni perché non si può vivere avendo l'odio nel proprio cuore, perché questo ti distrugge. Sì, c'è molta gente che si distrugge. Cosa ha provato quando hanno emesso la sentenza, Joe? Io mi sentivo come galleggiare col mio corpo, guardando verso il basso. Era surreale. Era qualcosa di incredibile. Era come un incubo, un vero incubo da cui non riuscivo a svegliarmi. Lei è stato in carcere in attesa di esecuzione per 22 anni. Era un ragazzo, è uscito un uomo maturo. Ma non si sa mai quando è il giorno dell'esecuzione della condanna. Io ho avuto molte date di esecuzione, perché appena ti condannano ti danno una data di esecuzione, però poi c'è la possibilità di fare degli appelli e poi ti danno un'altra data e tu fai un nuovo appello e ti danno un'altra data di esecuzione e così via. In effetti ci sono stati per una volta tre giorni di seguito avrei dovuto ricevere questa esecuzione. Come si vive sapendo domani non ci sarò più? Come passano quelle ore? La maggior parte del mio tempo l'ho passato studiando legge, studiando il diritto, perché io capivo che dovevo usare i motivi per cui ero stato condannato per liberarmi, quindi conoscere la legge, ma la legge di per sé ha un proprio linguaggio, una terminologia, ed è molto difficile da studiare. Per cui io ho studiato e studiato e studiato finché non sono riuscito a scrivere le mie emozioni per poter salvare la vita in un tribunale. Certo, questo in tutti i lunghi anni della sua detenzione, ma quando sapeva che il giorno dopo, una settimana dopo, avrebbe dovuto morire, come ha passato quello spazio di tempo? Lottando, perché ogni momento conta. Io dovevo tenere la mente occupata, altrimenti sarei impazzito. Paura che cos'è, Joe? La paura è qualcosa di ignoto. Quello che è in serbo per me, che però io non conosco, e questo è quello che davvero ti spaventa. La sua famiglia, i suoi amici, come hanno reagito a questa sentenza? Le credevano? Tutti quelli che mi hanno incontrato sapevano che io non avrei mai fatto una cosa del genere, quindi nessuno ha mai pensato che io avessi fatto quello. Ma, mentre passava il tempo, io perdevo gli appelli uno dopo l'altro. Anche la famiglia ha cominciato ad allontanarsi sempre di più. Mio padre è morto quando avevo 17 anni, mia madre è morta nel 98, e poi ho incontrato padre Neil proprio quando mia madre stava morendo. Allora, padre Neil è una figura molto importante nella sua storia, perché è un sacerdote che è diventato amico, fratello, e ora lei dice anche padre. Chi è? Padre Neil non solo è un sacerdote, ma lui è anche un infermiere professionale ed è un avvocato. E lui è stato a tutte e tre queste cose, e in queste tre cose ha lavorato per me. E non si è mai rispermiato, e l'esecuzione sarebbe avvenuta magari 15 anni fa, se non ci fosse stato lui. Lui era il cappellano del carcere? No, in effetti lui ha conosciuto un altro uomo che era nel braccio della morte, che era nella cella vicina alla mia, e lui ha cominciato a scrivere a lui nel 97. Io conoscevo questo padre Neil, perché questa persona me ne parlava, ma non l'ho mai incontrato faccia a faccia. e quando mia madre è morta, padre Neil è venuto a celebrare il funerale. L'hanno lasciato andare al funerale di sua mamma? No, il braccio della morte non è possibile, per questo lui è andato, e lui è andato lì al posto mio. Lo so, ma penso sia stato terribile anche questo, no? Sì, sì, lo è stato. Ma questa opportunità, quando è venuto questo sacerdote per parlare con me, adesso io avevo finalmente un essere umano davanti al quale io potevo parlare, e potevo chiedergli di aiutarmi, perché fino a quel momento io avevo scritto a giornalisti, a studenti di legge, a progetti che lavoravano per liberare le persone, ho chiesto a chiunque di aiuto. Sì, ma nessuno ha risposto, nessuno mi ha aiutato, nessuno voleva aiutare una persona con questa tuta arancione, questi condannati a morte, perché così eravamo considerati, dei morti ambulanti, nessuno voleva rispondermi. Quindi adesso finalmente avevo una persona viva davanti a me, e lui era lì proprio nella stanza, non poteva andarsene in quel momento, quindi era la mia opportunità per che lui mi aiutasse e mi potesse salvare la vita. All'inizio lui non voleva fare niente per me, perché lui mi parlava del funerale di mia madre, sì, io l'ho ringraziato molto di questo, ma gli dicevo, ma tu mi devi aiutare, perché stanno cercando di uccidermi, vogliono far andare anche me, dove è mia madre, quindi per favore aiutami, ma lui aveva una grande parrocchia di cui occuparsi e non aveva tempo, perché la maggior parte di questi processi hanno delle documentazioni di centinaia di pagine, l'uno ha questi grossi dossier, quindi lui non aveva tempo di leggere questo, finché io non gli ho detto che il mio era stato il più breve processo di condanna a morte e dello Stato dell'Ohio. Allora l'avvocato che c'era in lui ha fatto click, a lui ha pensato come hanno potuto condannare una persona che non aveva mai avuto problemi con la legge prima ed era anzi un sergente che era stato premiato in soli tre giorni di processo, per cui questo ha tratto il suo interesse. Le ha chiesto esplicitamente Joe, tu sei innocente e le ha creduto subito? Non ha creduto in me subito, però allo stesso tempo lui voleva provare a se stesso questa cosa che io gli dicevo. Ed è quest'uomo che ha fatto riaprire il processo. Lui ha trovato delle prove che erano state nascoste a me dalla polizia e dal magistrato inquirente e quindi trovando queste prove, grazie a questo, e ne ha trovate anche altre e più lui lavorava e più prove venivano fuori. E la cosa brutta è che tutte queste prove, almeno 80% di queste prove per liberarmi, erano in tre posti, cioè nei dossier della polizia e in quella del tribunale e in quella della procura. E lui, erano state tutte nascoste a me questi dossier, quindi quando lui ha cominciato a trovare queste prove, le abbiamo portate in tribunale. Senta, Joe, lei è un uomo di fede, altrimenti forse non avrebbe avuto questa sintonia immediata con un prete. Non era arrabbiato con Dio per questa ingiustizia enorme nei suoi confronti? Io ero arrabbiato con Dio prima che questo succedesse perché quando ero un ragazzo mi aveva tolto mio padre e mio padre voleva dire tutto per me. Quindi io avevo rotto con Dio a quell'epoca della morte di mio padre, ma quando questo è successo, e penso che questo doveva succedermi in qualche modo perché io potessi tornare a Dio. E quando è successo questo ritorno? E quando sono stato arrestato? Come mai? È una storia piuttosto strana perché c'era una persona che era nel letto vicino a me nella cella, nella prima cella dove sono stato imprigionato e lui era una persona appassionata della Bibbia, era uno di questi fanatici religiosi di queste persone e allora io gli ho detto vattene, stai lontano da me, non voglio sentire niente di tutto questo, ma lui ha preso la Bibbia, mi ha preso la mano e mi ha detto chiudi gli occhi e metti, indica, un punto sulla Bibbia. E mi ricordo ancora il passaggio che ho scritto nel mettere il dito sulla Bibbia, ma è stato come che un velo è caduto dai miei occhi e mi ha riportato verso Dio. E non ha mai pensato salvami. Sì, io ho cominciato a pregare, pregavo ogni giorno, ma quando è il momento di Dio non è il nostro momento. A 22 anni. Sì, io penso che Lui mi ha lasciato di proprio perché la mia storia potesse diventare più forte, perché io avevo bisogno di rafforzarmi, perché poi passavano gli anni e cosa voleva dire? Ma l'80% della mia vita adulta sì, l'ho passata in carcere, questo è vero, ma questo mi ha dato molta forza per poter lottare contro la pena di morte. Lei ora è un testimone e grazie anche di questa, del dono della sua presenza, lei qui in Italia, grazie alla comunità di Sant'Egidio che ha lavorato e continua a lavorare perché ci sia una moratoria internazionale sulla pena di morte, credo che questo sia un sogno che non riguarda solo gli Stati Uniti purtroppo, ma tanti altri paesi del mondo. Sì, è un problema che riguarda tutto il mondo, non riguarda solo gli Stati Uniti indubbiamente, noi stiamo lottando per qualcosa che avviene in tutto il mondo che deve smettere, che non è necessaria, è una cosa barbara veramente, perché non si può liberare qualcuno dalla tomba. Dopo alla fine si trova che erano innocenti, non è possibile, quindi perché questo è successo? È una cosa assolutamente non necessaria, è assolutamente sbagliata, è contro i nostri diritti come esseri umani, uccidere. Posso chiedere se lei pensava la stessa cosa quando era un ragazzo di 22 anni? Se era contro la pena di morte? Era molto ignorante in effetti, non conoscevo la legge a quell'epoca e penso che molti problemi con la pena di morte sono venuti fuori o vengono fuori perché se non toccano la tua vita tu non ci pensi a queste cose. Io non sapevo neanche che nell'Ohio esistesse una pena di morte quando vi è successo questo. Questo per farle capire quanto fossi ignoranti in questo senso quindi questa è una delle ragioni per cui adesso andiamo in giro per parlare per educare le persone a spiegare agli altri che questo è quello che avviene nel vostro sistema e questo deve smettere. Posso chiedere Joe se sarebbe cambiato qualcosa se lei fosse stato molto ricco? No, non sarei mai stato condannato perché non ci sono persone ricche nel braccio della morte non ci sono neanche persone ben istruite nel braccio della morte è la parte peggiore della società se io avesse avuto soldi avrebbero investigato avrebbero trovato le cose che ha trovato padre Neil per me e questo non sarebbe mai successo e non sarebbe mai stato condannato. Lei è riuscito lo stesso ad avere degli amici a incontrare delle persone magari colpevole ma cambiate in qualche modo redente in tutti questi anni con cui creare un legame di affetto sì le persone che sono nel braccio della morte sono miei amici io sono cresciuto con loro anzi adesso io li vado a visitare quanti hai accompagnato a morire dei tuoi amici innumerevoli io ne ho conosciuti 52 che sono che hanno avuto l'esecuzione sì nell'Ohio 52 di quelli che hanno avuto l'esecuzione la pena di morte li ho conosciuti come passavano il loro tempo prima di essere chiamati a morire avete parlato piangevano allora quando arrivi a una settimana dalla pena di morte viene messo in isolamento quindi sei lontano da tutti gli altri e quindi non so come hanno speso gli ultimi giorni della loro vita questo è ancora più terribile no? toglierti la possibilità di un rapporto umano non gli interessa niente non gli interessa quindi per loro tu sei un animale che deve essere abbattuto tu non hai mai pensato di ucciderti Joe? no no questo è un peccato contro Dio e loro avrebbero vinto se mi avessero costretto a fare questo e quindi io non li avrei fatti vincere comunque in questo senso chi esercita la giustizia quando sbaglia e sbaglia togliendo la libertà a un uomo come paga? ci sono molti pochi che vengono risarciti è molto difficile dimostrare bisogna avere una prova basata sul DNA o qualcuno che cambia la propria testimonianza e avviene in pochi casi nel mio caso non è successo questo abbiamo dovuto dimostrare che i due veri assassini erano gli assassini e quindi io non avevo niente a che vedere con questo caso quindi io non ho avuto nessuna somma di denaro non sei stato risarcito mai? no nessun risarcimento in nessun momento però sono vivo e sono libero quando sei uscito dal carcere il mondo era cambiato oh sì proprio ha cambiato drasticamente per esempio il web non esisteva i computer erano della dimensione di una stanza intera o almeno di un'automobile le batterie erano enormi quindi la tecnologia in questi 22 anni è veramente esplosa è una cosa che ancora mi spaventa i computer mi spaventano in qualche modo quando sei uscito hai trovato qualcuno della tua famiglia o dei tuoi amici ad accoglierti a sostenerti? io sono l'ultimo nato della mia famiglia quindi la maggior parte di loro erano già morti e gli altri si erano trasferiti però c'erano ancora i miei amici che io avevo prima che questo mi succedesse per esempio i compagni di scuola con cui ero cresciuto alcuni erano ancora lì e sono tornati ad essere tuoi amici o ti guardavano con sospetto? no no tutti quanti sono rimasti amici loro hanno continuato a scrivermi quando ero in carcere anzi uno di loro è venuto proprio a trovarmi quando ero in prigione tu hai un lavoro hai una famiglia Joe? si ho un lavoro perché padre Neil ha una grande parrocchia e io sono un po' un tuttofare lì e quindi posso fare lavori di fare legna Maria lavori sul sistema elettrico e quindi io lavoro per padre Neil e gli sistemo tutti i problemi che ha nella parrocchia e per quanto riguarda la famiglia questo è molto difficile perché oggigiorno quando si dice a una ragazza che tu sei stato nel braccio della morte per 22 anni se glielo dice la prima data il primo appuntamento oppure aspetti magari il secondo allora magari lei sa come ti chiami le scopre da sola quello che è successo e poi succedono delle cose che appartengono al passato e poi ci sono i fratelli gli zii tutte le persone che nel frattempo sono morte quindi è molto difficile oggigiorno trovare qualcuno che è disposto ad accettare la mia vita hanno paura di te? hanno paura della mia storia non tanto di me pensano che 22 anni nel braccio della morte è qualcosa che spaventa che spaventa le persone persone che non mi conoscono ancora bene ma se non mi danno la possibilità di farmi conoscere è così che non sei malato di mente che non sei un uomo vendicativo tu non la vuoi la vendetta vero? no io non ho odio dentro di me perché loro avrebbero vinto in quel caso io sarebbe come ridargli la mia vita io non voglio che loro vincano mi sconfiggano in questo senso e distruggano la mia anima per questo io ho cercato in tutti i modi per lo più ho perdonato tutti quanti eccetto quelli che ancora dichiarano che io sono un assassino per loro ed è difficile perdonare qualcuno che ha ancora questa posizione che continua a dire che io sono un mostro che ha ucciso quel ragazzo di 19 anni ma se anche tu fossi stato un mostro la pena di morte sarebbe stata giusta? no no non è mai giusta la pena di morte mai perché è qualcosa totalmente contrario a quello che dovremmo essere quindi qualcosa contro la società contro i nostri diritti è sbagliato in assoluto quindi non bisogna uccidere punto non dipende se siamo noi o lo Stato o chiunque nessuno deve uccidere non ci diamo e non ci possiamo togliere noi la vita giusto? right sì proprio così esattamente padre Neil per te è un po' un angelo così dal ciel caduto oh you bet sì è proprio così hai indovinato credo che anche padre Neil avesse bisogno del tuo fisico per fare il carpentiere nella sua parrocchia quindi anche tu sei un angelo per lui sì vero? sì perché si vede che sei un uomo forte in tutti i sensi sì grazie del tuo tempo grazie della tua testimonianza Joe mi regali una canzone che per te è un inno alla libertà e alla tua vita ritrovata? no non ne ho una in particolare mi piace tutta la musica perché tutto quello che può essere ascoltato che ti nutre il cuore qualunque cosa che ti piace è bello quindi a me piace tutto ci sentiamo freedom che secondo me va bene comunque ok? sì grazie grazie a te Joe Joe grazie a te